La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta. Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti. E poi le tocca a Maravignè, che le tocca pure subire tutto questo, una professionista come Maravignè. Bruno Tabacci, che sta succedendo? La situazione, Maravignè è una grande professionista, e gli hanno fatto un po' un trappolone, perché leggere questo comunicato? Il responsabile della RAI ha tutte le possibilità di far sapere le sue opinioni con gli strumenti che sono nella disponibilità, che sono totali.